insomma l'orestone ha deciso di sedersi sul tavolo la menù raspa lo stipite della porta perché ha già fame ma ora la porto fuori, la distrago perché mangia troppo, peggio di me e poi voglio chiacchierare di filati per bebè quelli che piacciono in casa poi alla fine abbiamo toccati tanti e alla fine quelli sono e Camilla ha detto, mi sa che proprio l'alpaca è la mia lana per intendere il suo filato invernale perché ha quel giusto peletto che è come si può dire coccoloso, non è svolazzante non più di tanto, non certo come il mohair e a parte che anche il mohair dipende da come è ritorto e le colorazioni dell'alpaca sono calde anche nei colori freddi sono belle, le alpaca sono fluide ecco, è un filato fluido che non tende a gonfiare quello che mi piace ad esempio dell'alpaca lace è che risponde ai tiraggi si lascia modellare anche se io poi non amo i capi che richiedono una costante rimessa in forma ecco, diventa una schiavitù non ci si gode poi il capo alla fine si finisce col riporlo da una parte perché escono vecchi io vedo delle partenze degli avvi per mezzo e luna che non mi piacciono niente che creano una sorta di spicchio e i capi progettati così non mi piacciono infatti non ho mai fatti e ho un'amica che tribula perché ne ha fatti tanti e non le rimangono in forma a lungo l'alpaca una volta messa in forma è difficile che si scomponga che ritorni che si accorci che si allunghi tende in effetti un po' più ad allungarsi però diciamo non è capricciosa come certa merino ma quello che mi piace ad esempio ora mi avvicino mi avvicino e che lo resta e mi fa ombra ad esempio in questi due capi per bebè vediamo se riesco a eliminare un po' il riflesso sono andata a dare un'occhiata e sono stati utilizzati gli medesimi filati nei due colori e sono due filati allora due capi di super zephyr che non conosco di canetta e un kid che presumo possa essere un super kid questo mi annusa ho toccato un biscotto è strano perché è una realizzazione proprio allora si mette a fuoco vediamo ora arriva si mette a fuoco ci mette un po' eccolo qua si vede che è un capopelosetto ed è strano perché di solito si cerca di evitarli con i bebè però è affascinante insomma questa trasparenza la zephyr che non conosco quella di canetta ma ne ho utilizzata di tante aziende varie italiane soprattutto e francesi ricordo una zephyr dipinta a mano è una lana secca tendenzialmente secca molto tenace ha una bella zigrinatura perché la torsione forma proprio una sorta di zigrinatura una volta lavorata e vorreste c'è la tua pazza la faccia eccola qua e diciamo che l'alpaca è meno leggera però ecco quando si ha voglia di un capo un po' meno pettinato un po' meno ordinato un po' meno trasparente un po' meno fitto ecco che l'alpaca aiuta l'alpaca l'alpaca l'ace perché poi l'alpaca di cappa o adesso poi ve ne farò vedere alcune ecco arriva ad avere un volume tende poi anche a gonfiare cambia tantissimo dipende poi da quanti capi vengono messi ma è proprio la risposta delle fibre se si trovano dello spazio tra loro oppure no c'è l'oreste che non la smette di fare avanti e indietro è un curioso e adesso ecco qua alcuni colori sono andata a pescare dei colori al piano di sopra che diventano verdi forse sarà perché c'è il giallo vicino ma non sono per niente così verdastri anzi e questi sono i colori che ho preparato per le nostre bambine questo no questo che non è così sparato lo terrò per me perché ho un progetto per la testa però questa che è stata raggomitolata era una matassina questa e poi vediamo dove l'è dove l'è me la sono persa un gomitolo ecco sono delle è un'alpaca che proviene da un laboratorio toscano dal quale io ho acquistato negli anni veramente dei filati affascinanti e di grande qualità come i primi cammello come le più belle alpaca come delle mischie bellissime con moer seta cashmere che belle e sono molto contenta di averle trovate di nuovo perché sono quelle che utilizzerò per le bimbe visto i gusti della nipote e poi mi sono trovata una ecco questo questo che è in tonza l'ho pesata ho messo una cosa così probabilmente è stato tra le griffe di Oreste che mi sta facendo danni questi giorni questa è una dk sempre del medesimo laboratorio molto simile alla dk artesano che adesso ho di lato e sono contenta ecco quindi mi vedrete lavorare molta alpaca però un filato che avevo acquistato in offerta in un negozio che stanno chiudendo a a Viterbo e purtroppo è chiuso cioè c'è un biglietto con un numero telefono che bisogna chiamare in caso di bisogno diventa un po' un guaio organizzarsi che ho fatto vedere qualche vocaletto fa e che adesso ho riposto che è una mistolana e alpaca e con una piccola percentuale di acrilico ahimè ma dà un aspetto che assomiglia a questa assomiglia molto a questa è un ciccini più rossa ma si può lavorare più sottile perché è un filato parecchio consistente lo campionato quindi anche lavorarlo con i feri un pochettino più stretti non dà una texture rigida anzi quindi telefonerò e chiederò quali colori hanno perché mi sa che farò contenta Camilla e la nipote e la zia a più tardi a più tardi che faccio vedere dove sono col il col 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 bolerino ciao è carino anche questo numero qua anche questo numero è veramente molto carino c'è ricamo c'è un'applicazione c'è di tutto ci fa giocare sono molto carini questi corredini per bebè ciao